Parlando sempre di Pujou, un nuovo capitolo di Stefano Corsi con i diversi sensi e le diverse interpretazioni dell'attore bolognese e questa volta è il turno dell'esaltazione. Vediamo cosa conviene. Stefano, sei carico per il provino? Sì, sì, sì. Ho la netta sensazione che oggi la mia carriera avrà un'accelerazione pazzesca. Finalmente potrò fare quello che voglio e andare dove voglio. Io vado oltre, così oltre che mi dovranno inseguire in capo al mondo per avermi in un film. E chi se ne importa delle barriere? Basta con le solite strade battute da tutti. Basta con le solite idee polverose. Io avrò il coraggio di andare dove gli altri non si sono mai spinti. Sì, raggiungerò 20. Che mai nessuno aveva raggiunto prima, se va bene il provino di oggi. Pronto? Dove sei finito? Sono qui dietro, c'era traffico. Qui dietro, eh? Sì, sì, sì. Sto arrivando. Sto cercando parcheggio. Muoviti. Arrivo. Perché il prossimo provino se non lo fai per la televendita dei materassi. I materassi no! No! Così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Tra poco ritorniamo con Motor News, puntata numero 13 del 2017 e vedremo dei servizi che riguardano Toyota DS3 Performance e la DS7 Crossback che abbiamo recentemente visto in anteprima al Salone di Ginevra. A tra poco!